Parco di Cranberry 5 minuti da casa e un albero di faggi americani ancora addormentati aspettando una sicura primavera prima di far sbocciare le gemme quasi tutti giovani e qui il fantasma di due alberi caduti anzi uno solo enorme i faggi si sono fatti strada ai suoi lati e quindi